Malte all'incrocio di Corso alla Mano, via Rivalta del Comune di Grugliasco. Circolare sul territorio di Grugliasco è come una corsa a ostacoli, ad ogni passo c'è un malefico marchingegno per fare cassa. Una cosa vergognosa. Qui non si tratta di trasgredire deliberatamente il codice della strada perché le persone non sono macchine e un errore veniale può comportare i costi esorbitanti e la sospensione della patente, perché c'è un lasso di tempo di molti giorni tra l'infrazione e la relativa notifica a casa, per mezzo posta, durante il quale, se il guidatore di un mezzo non è cosciente d'essere in corso in un'infrazione, rischia di ripeterla. Questo, oltre che essere vessatorio, non dovrebbe essere legale e, in ogni caso, non dovrebbe accadere poiché non si dà il tempo agli utenti della strada di provvedere per evitare che in futuro prendano altre multe. Spesso anche la segnaletica è carente in prossimità di tali marchingegni ed è possibile essere multati, per esempio attraversando un incrocio, regolato da un semaforo T-RED, col verde, ma da una corsia di svolta a sinistra, un errore veniale che non comporta alcun disagio alla circolazione, ma che viene sanzionato severamente. Una segnaletica che avverte soltanto una cinquantina di metri prima del semaforo che non si può procedere diritto a un incrocio è senza alcun dubbio carente e pericolosa, potrebbe indurre il conducente di un veicolo ad una frenata e ad un arresto del veicolo brusco, con tutte le potenziali conseguenze del caso. La politica di fare cassa ordendo agguati di questo genere agli utenti della strada, già tartassati in molti modi, è odiosa. Mi ricorderò di questo a tempo debito.